Il Cristo innalzato da terra, attira gli uomini tutti in croce con braccia distese, gli porta al Padre in offerta. Per l'uomo invoca il perdono a tutti i promette e il suo regno, consegna alla madre ai credenti lo spirito e fonde sul nostro. A Cristo che è il nuovo Adamo, risorto per tutti i fratelli, al figlio dell'uomo veniente, la gloria e la gloria.